Ciao, sono Sofia e oggi il viaggio fa tappa in Corea, dove vi mostrerò una beauty routine coreana allo scopo di far vivere un momento speciale. Come prima cosa c'è una detersione che svolgo con il latte detergente, facendo dei movimenti circolari dal basso verso l'alto e poi lo elimino con delle spugnette bagnate. Dopo la detersione con il latte, svolgo una detersione a base schiumosa, che applico sul viso e faccio gli stessi movimenti che ho svolto con la prima detersione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Poi procedo con l'esfoliazione, massaggio bene lo scrub che poi leverò con le spugnette. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Per la tonificazione, picchietto delicatamente il viso con dei dischetti di cotone bagnati dal tonico. Poi applico dei sieri con due pennelli, portandoli su tutto il viso facendo dei movimenti delicati e rilassanti. Dopodiché applico sul viso una maschera in tessuto che lascio in posa per 20 minuti. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.